Legalità e lotta all'andrangheta, la mezzaterma e il dibattito su uno degli strumenti fondamentali adottati dalla magistratura per combattere le attività della criminalità organizzata e poi l'esempio virtuoso di Don Giacomo Panizze e della comunità Progetto Sud a Castrovillari invece fino al 23 maggio il Festival della Legalità. A Falerna il procuratore della Repubblica di Vibo Valencia sottolinea il ruolo dei giovani per il futuro e l'impegno della magistratura nella lotta contro racket e distorsioni. Il decreto sospetto bloccato da occhiuto. Il presidente della regione interviene con un duro post su Facebook La musica è cambiata, dice, revocato l'acquisto di gadget per 160.000 euro, annunciata la rimozione della dirigente del settore. I numeri shock della strage stradale, associazioni, fondazioni, movimenti, familiari di vittime di violenza stradale hanno partecipato stamane a Cosenza alla manifestazione nazionale per richiamare l'attenzione di cittadini, istituzioni e media sulla strage stradale. Il 42% delle morti su strada avvengono nel percorso casa-lavoro-casa. Il GAL Terre Vibonesi è l'arte di raccontare il territorio, serata ricca di suggestione, quella organizzata ieri sera a Pizzo per i giudici del concorso di Bruxelles in questi giorni in Calabria. Il territorio, dice il presidente del GAL, va raccontato nella sua interezza. Cosenza salvo, città in festa, i lupi battono il Vicenza 2-0 e conquistano la salvezza. Festa fino a tardanotte per il sindaco Caruso, la piazza cosentina merita un passo in più. Il tecnico del Cosenza Pierpaolo Bisoli, assieme al dirigente Rossoblu Emanuele Delieto, mantengono la promessa e vanno in bici fino al santuario di San Francesco di Paola. Nuova edizione del nostro telegiornale in apertura, un'ampia pagina dedicata alla legalità e dalle tante iniziative organizzate sul territorio, iniziative di sensibilizzazione, di riflessione, di confronto. Partiamo dalla mezzia terme e dal dibattito organizzato per riflettere su uno dei principali strumenti messi in campo dalla magistratura per contrastare le attività della criminalità organizzata con un esempio virtuoso, quello di Don Giacomo Panizza e della comunità Progetto Sud. Sentiamo. Una misura di sicurezza patrimoniale ordinata dai giudici in caso di condanna. La confisca dei beni nel corso degli ultimi anni ha rappresentato soprattutto un fattore spesso decisivo per la lotta alla criminalità organizzata dalla duplice valenza, da una parte quella economica e finanziaria, dall'altra prettamente sociale. Se nel primo caso infatti si colpiscono i frutti e i profitti degli affari dei clan, nel secondo invece quando accade si restituisce un bene ai cittadini attraverso gli enti che possono così convertirlo per funzionalità sociali e collettive. In Calabria gli esempi virtuosi non mancano, quello più eclatante arriva dalla mezzia terme e dalla comunità Progetto Sud guidata da Don Giacomo Panizza. L'incontro di oggi è significativo per la comunità Progetto Sud perché l'esperienza della gestione di una casa confiscata anche pericolosa e ha portato invece ad avere là come attività una casa che era inesistente, una casa che aveva tutto sregolato. L'abbiamo ricostruita, l'abbiamo aggiustata, però ecco io oggi dirò che abbiamo là 22 dipendenti che lavorano, che negli ultimi due anni è girato 1.034.378,29 euro, voi capite che l'utilizzo delle case confiscate è un utilizzo economico che se ne dica, però bisogna farlo insieme, bisogna farlo insieme col comune, bisogna farlo insieme con la società, bisogna farlo insieme anche con le persone che hanno bisogno, anche con i giovani. Ecco, in quella casa basta di tutto e di più tranne l'illegalità. Tra la confisca dei beni alla criminalità e la restituzione alla collettività ci sono però norme complesse, meccanismi burocratici che ne rallentano le procedure di assegnazione, un meccanismo spesso inceppato e che ostacola il lavoro della magistratura. Bisogna che le istituzioni, nel caso di speggio della magistratura, ma anche le istituzioni locali facciano fronte comune alla gestione di questi beni. La legge già prevede una sorta di affidamento, si può dire in qualche misura quasi automatico, ai comuni per quanto riguarda gli immobili confiscati, per il tramite ovviamente dell'Agenzia dei beni confiscati, ma spesso questo non basta perché i problemi di gestione economica e sociale in un territorio già privo di risorse rende a volte l'azione di contrasto problematica e ciò che bisogna fare, quindi unirsi a livello di istituzioni, è quello di intervenire, confiscare, ma far sì che questi beni abbiano un reale sviluppo economico e sociale per la comunità a cui vengono restituiti. E dicevamo poco fa delle tante iniziative dedicate all'affermazione della cultura della legalità. Andiamo ora a Castrovillari, ci spostiamo dunque dalla Mezzia Terme nella capitale del Pollino e in corso infatti il Festival della Legalità. Quattro giorni, 30 appuntamenti per sensibilizzare e coinvolgere proprio i giovani. Costruire la cultura della legalità attraverso un sano e proficuo confronto con le nuove generazioni, le stesse che sono chiamate ad ereditare il testimone dei grandi uomini e delle grandi donne che nel recente passato hanno sacrificato la loro vita per affermare i principi di rotta alla criminalità organizzata. E' la premessa del Festival della Legalità a Castrovillari, quattro giorni di manifestazioni con ben 30 appuntamenti. Momenti qualificanti, i confronti con i giovani studenti. Il Festival si chiuderà il 23 maggio, nel giorno dell'anniversario della strage di Capaci. Cito Bertolt Brecht che diceva guai alle comunità che hanno bisogno di eroi. Io credo che più di eroi abbiamo bisogno di normalità e più normalità c'è e meno eroi sono necessari. Io ribadisco un concetto che ho detto alla fine ragazzi, vorrei che quando escono per fare omicidi o per fare danneggiamenti, quelle persone sentano l'inaffidabilità del fatto che chi li vede li denuncia o li segnala alle forze di polizia. Sono convinto che anche in Calabria si arriverà a questo. Sulla Sibaritide e sui tanti fatti delittuosi avvenuti recentemente, il procuratore di Castrovillari non ha dubbi. E' un territorio particolare ma con grande vitalità. Se non ci fosse stata questa vitalità non ci sarebbe stata questa giornata. Io vengo da una regione che è stata capace fortemente di ribellarsi. Devo dire oggi ho visto un polso che comincia a battere di nuovo forte. sono molto ottimista per il lavoro futuro. Infine il recento incendio dei mezzi di un'azienda coinvolta nei lavori della Statale 106. Gli appalti le sembra fatte a pericolo. Dovunque, non solo in Calabria ma come ho detto prima dappertutto, compito di ognuno di noi è fare il proprio dovere, compito vostro e dei cittadini darci una mano facendo i cittadini non gli eroi. E da conferma delle considerazioni espresse le avete appena ascoltato dal procuratore della Repubblica di Castrovillari. Considerazioni sulla Sibaritide, territorio problematico, stanotte l'ennesimo atto incendiario. Questa volta ad andare a fuoco è stato un'auto articolato di un'azienda di trasporti della Sibaritide con sede nella zona industriale di Corigliano Rossano e il trentesimo mezzo avvolto dalle fiamme a Corigliano dall'inizio dell'anno. Solo grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco l'incendio non si è diffuso agli altri mezzi presenti nel parcheggio dell'azienda. Dicevamo poco fa, ampia pagina d'apertura dedicata alla legalità e ci spostiamo da Castrovillari a Falerna con un incontro organizzato dall'Associazione OP. Questa volta protagonista, come a Castrovillari lo è stato il procuratore della Repubblica di Castrovillari, a Falerna invece era protagonista il procuratore della Repubblica di Vibo Valencia, Camillo Falvo, che ha sottolineato il ruolo ed il valore della presenza dei giovani a fianco alla magistratura impegnata a contrastare racket e distorsioni. Sfuggire al ricatto e alle vessazioni dei clan di Indranket attraverso la denuncia. Dopo anni di lotte e contraddizioni, risultati investigativi spesso eclatanti, è ancora doveroso ricordare la valenza e soprattutto l'importanza di un atto fondamentale per cercare di tagliare alla radice il sostentamento di clan gregari e capibastoni di Indranket sparsi sul territorio. Già perché quello di stringere nella morsa del racket le attività commerciali è un'attività illecita che tuttora fa gola alle organizzazioni criminali, ma rispetto al passato molte cose sono cambiate, soprattutto nella consapevolezza delle comunità e dei cittadini. Gli esempi sono molteplici e se ne è discusso in un incontro organizzato a Falerna e che ha visto un ospite d'eccezione, il procuratore di Vibo Valencia, Camillo Falvo. L'arma per poter sconfiggere la criminalità organizzata è solo quella della denuncia. Stiamo cercando di recuperare, negli ultimi anni si sta facendo tanto. Dobbiamo fare ancora di più, ma in questo dobbiamo avere il sostegno della società, della popolazione perché la lotta è anzitutto culturale. Far mancare il terreno sotto i piedi ai clan è dunque l'obiettivo primario. Ancora meglio se l'esempio arriva dai più giovani. Questa associazione, OP, mi ha meravigliato proprio per questa vigore, per questa forza di questi ragazzi della Calabria, perché la lotta alla criminalità organizzata non la facciamo solamente con le operazioni, anzi, si farà togliendo il consenso e sarà una battaglia che sicuramente vinceremo, ma vinceranno loro. Ed ora la cronaca ancora sbarchi nel porto di Roccella Ionica. Poco prima dell'alba l'ennesimo arrivo, 119 i migranti giunti. Sono di nazionalità principalmente afghana e siriana e tra loro anche un nutrito gruppo di donne e di bambini, alcuni dei quali con età inferiore a tre anni. Con lo sbarco di stanotte sale a 19 il numero totale di arrivi nel tratto di costa della Locride. 102 sono invece i migranti sbarcati sul litorale nord di Crotone. Subito dopo l'approdo a terra i migranti hanno cercato di nascondersi nei campi. Sono intervenute subito le forze dell'ordine allertate dai cittadini. I migranti di nazionalità iraniana e afghana sono stati poi trasferiti nel cara di Isola Caporizzuto. Lo avete sentito nei titoli del sommario. Cambiamo argomento. È stato particolarmente duro l'intervento del presidente della regione Roberto Occhiuto che con un post su Facebook ha annunciato la revoca di un decreto che stabiliva l'acquisto di gadget per il brand Calabria straordinaria per circa 160 mila euro dall'azienda Publi Turco con sede a Rende. Occhiuto nel sottolineare che la musica è cambiata ha anche annunciato sostanzialmente la rimozione della dirigente che ha firmato il decreto. Un pasticcio, questo dei gadget che inizia e finisce all'interno delle stanze del Dipartimento Turismo. La storia dei 160 mila euro stoppati in extremis è però un po' più vasta e complicata ed è difficile come evidenzia stamane un pezzo del Corriere della Calabria pensare che un solo dirigente regionale per di più non in funzione apicale possa decidere da sé ed in autonomia sull'assegnazione di una somma così ingente. Insomma la catena che porta al pasticcio dei gadget potrebbe essere più lunga, prevedere altri passaggi ed altre responsabilità. Andiamo ora in provincia di Cosenza, stiamo sempre sui temi regionali con riferimento però alla sanità perché nella Sibaritide e in particolare nello spocco di Corigliano Rossano ci sono delle notizie positive che riguardano l'unità di terapia intensiva coronarica, il personale, gli investimenti sul pronto soccorso. Tutti argomenti affrontati nel corso del sopralluogo effettuato da parte del neocommissario dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza. Prima uscita operativa per il neocommissario dell'Asp di Cosenza, Antonello Graziano, il massimo e plenipotenziario dirigente della Sanità Bruzia, voluto dal presidente Occhiuto per compiere l'impresa mai riuscita fino ad oggi di rimettere in ordine la complessa azienda di via degli Alimena, ha fatto visita agli ospedali Spoc di Corigliano Rossano, iniziando quel tour operativo che lo vedrà nei prossimi giorni in giro per i nosocomi e gli ambulatori della provincia. Inizierà una fase nuova per questo territorio, la cosa più importante io dico sempre sui tempi, cioè sto chiedendo ai miei tecnici nel progetto quanto iniziamo e starò gonfiato sul collo io, sui dirigenti ma anche sulle ditte stesse, perché penso che noi siamo abituati, faremo, diremo, cioè adesso la gente deve sapere quando iniziamo, cosa si fa, quindi massima trasparenza anche nella comunicazione. Priorità ai pronto soccorso ma anche all'organizzazione del personale per migliorare il comfort degli utenti, queste le priorità dettate da Graziano. Io mi sono insediato da poche ore ma avevo già detto che era iniziato il mio tour di conoscenza della realtà a partire dai pronto soccorso, l'ho fatto, oggi sono su Rossano e Corigliano, poi proseguirò ovviamente, credo che i pronto soccorso rappresentano la caftina attorno al solito, l'efficienza di un servizio sanitario. Rispetto al passato diciamo che molte cose sono cambiate in meglio, resta una problematica del personale che affronterò nelle serie opportune, forte dell'appoggio del Presidente Occhiuto che mi ha dato un input ben deciso, normalizzare la sanità nella provincia di Cosenza in Calabria, quindi lui ci sta mettendo tanta passione, cuore, entusiasmo e noi lo stiamo seguendo ovviamente. Ma Graziano a Corigliano Rossano ha portato anche un'importante novità, a due anni e cinque mesi dalla sua chiusura, a giorni dovrebbe finalmente riaprire l'unità di terapia intensiva coronarica dello Ionio. Da qui a giorni noi apriremo l'Utik, è un gioiellino con un'attrezzatura di ultimissima generazione che darà anche qui una risposta ai cittadini di questo territorio e a quanti hanno problematiche di questo tipo e a quanti hanno problematiche di questo tipo e a E sempre a Cosenza stamane cittadini, associazioni ma anche istituzioni hanno partecipato ad una manifestazione che rientra in una iniziativa nazionale. Al centro delle valutazioni la strage stradale, i numeri degli incidenti che mietono vittime purtroppo ogni giorno. Sentiamo. Quella bambina aveva 16 mesi, tre anni fa in un asilo una mamma fa retromarcia e prende la testa di Lavinia e la schiaccia con fuoriuscita di materia cerebrale. Lavinia è in uno stato vegetativo di minima risposta. Possiamo, come all'Aquila e all'Altruieri, contare sempre i bambini morti perché le macchine, i veicoli e le persone che le guidano uccidono 48 bambini all'anno in questo paese. Una mattanza silenziosa, mortale, devastante nei numeri e nelle ferite che spesso distruggono intere famiglie e rendono la vita un incubo. Le morti connessi ad incidenti stradali non diminuiscono dalle statali alle autostrade e lungo l'elenco delle vittime. Dai minori agli adulti, dai motociclisti agli automobilisti, nessuno sfugge ai dati drammatici e impietosi. Il 42% delle morti su strada avvengono nel percorso casa-lavoro-lavoro-casa. Si tratta di collisioni stradali o infortuni e nel 2020 si sono registrati i decessi di tre bambini morti prima di nascere. A causa di una collisione stradale, le mamme sono decedute sul colpo. Nonostante la pandemia tra 2020 e 2021, noi abbiamo solo il primo semestre del 2021, ma dei calcoli che abbiamo fatto noi sulla base dell'esperienza passata, noi supereremo le 5.000 vittime nel biennio di pandemia e quasi 30.000 disabili gravi. Questa mattina a Cosenza, associazioni, fondazioni, movimenti, familiari di vittime di violenza stradale hanno partecipato alla manifestazione nazionale per richiamare l'attenzione di cittadini, istituzioni e media sulla strage stradale, ma non solo, anche per ribadire i rischi di morte per patologie connesse al traffico cittadino, al riscaldamento delle case e delle scuole. Le auto nelle città devono essere diminuite perché occupano 25 metri quadri, ogni auto occupa 25 metri quadri entrando e uscendo dal parcheggio. Il 95% muoiono dove si fermano, non vengono utilizzate se non al 5% e combattiamo l'obesità, anche infantile. Ed ora andiamo a Pizzo dove ieri sera c'è stata una serata particolarmente ricca di emozioni e suggestioni. L'occasione è data dalla presenza dei giudici del concorso di Bruxelles che è dedicato al vino, come sapete. Ma a Pizzo il gruppo di azione locale, il GAL Terre Vibonesi, ha allestito un'accoglienza con l'obiettivo di raccontare nella sua interezza il territorio. Sentiamo. Si presenta così sul far della sera la città che introduce alla suggestiva costa degli dei. L'occasione è la visita dei giudici internazionali protagonisti del concorso mondial di Bruxelles in questi giorni in Calabria. E da Pizzo l'organizzazione del GAL Terre Vibonesi ha fatto la propria parte con la consapevolezza di essere attore locale di una provincia, nota certo per le sue coste ma altrettanto ricca di elementi che la rendono unica. Una sorta di matriosca i cui contenuti vengono svelati per intero. Il territorio, i prodotti agroalimentari, la piazza di Pizzo, il tartufo e poi ovviamente l'unione tra i colori del mare e quelli della storia. Nel castello dove si consumò la tragica e mitica fine di Gioacchino Miura. Noi dobbiamo raccontare quello che siamo e quindi non un luogo chiuso per far vedere che tutto va bene ma in mezzo alla gente, in mezzo ai bambini, in mezzo anche al traffico e quindi raccontiamo questo spaccato. Ormai questo è diventato per noi un modo di operare che è la normalità e cioè noi ormai raccontiamo tutto il territorio e il territorio lo raccontiamo attraverso tante eccellenze. Quali? Sicuramente quelle gastronomiche, quindi saranno, sono presenti i consorsi, cipolla, pecorino e induia. Così come a Pizzo non poteva mancare il tartufo e sarà anche presente la musica popolare che appartiene comunque alla calabresità, questa provincia. Così i vini e ancora protagonisti, sempre vini e anche in provincia di Vibo oggi abbiamo ottimi vini. Poi abbiamo delle maestranze, degli artigiani, la terracotta di Gero Carne ma così come dei maestri di penne. Quindi diciamo che c'è uno spaccato importantissimo che vogliamo raccontare nella sua interezza. La pagina finale di questa lunga edizione del nostro telegiornale è dedicata alla città di Cosenza con una doppia prospettiva. Iniziamo dai fatti politici ed amministrativi e poi naturalmente chiudiamo con la notizia che riguarda lo sport e la vittoria ieri sera del Cosenza. Allora iniziamo dai fatti politici e amministrativi perché oggi si è tenuta la riunione del Partito Democratico nella città dei Bruzi con riferimento proprio alle valutazioni sull'impegno, sull'attività amministrativa. Sentiamo. Il neosegretario della Federazione Provinciale dell'EPD di Cosenza, Vittorio Pecoraro, ha convocato per questa mattina una riunione di coordinamento convocata di concerto con la segretaria cittadina Rosi Caligiuri, sul tavolo l'azione dell'EPD in seno all'amministrazione comunale di Cosenza e alcune proposte, tre, già suggerite, sottoposte all'attenzione del sindaco Franz Caruso. La prima proposta è quella della città unica che vive attraverso anche un'azione di ridefinizione delle nostre istituzioni amministrative a partire all'unione di comuni che noi immaginiamo in primis come unione di comuni fra Castrolibero, Cosenza e REND. In secondis vogliamo stimolare il tema della sanità. Noi siamo per l'ospedale unico, per un grande ospedale e siamo fortemente impegnati perché si è costruito il nuovo ospedale nell'otto di Vagliolise, punto strategico per la nuova area urbana che vogliamo andare a ridefinire. E terzo punto, ma non meno importante, noi sosteniamo la metropolitana leggera come collante di quest'area urbana, come collante di questa città unica che vada dall'unica fino al centro storico di Cosenza. E dicevamo della pagina finale del nostro TG dedicata alla città di Cosenza perché quella di ieri sera è stata senz'altro una serata travolgente per i tanti tifosi che si sono recati al Marulla. La vittoria del Cosenza che ha battuto per 2-0 il Vicenza ha di fatto consentito ai lupi di salvarsi. Naturalmente c'è stata una lunga festa ed il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha evidenziato come la piazza cosentina meriti un passo in più. Sentiamo. E fatta su Cosenza voce, sono felicissimo, abbiamo conquistato la permanenza in B, dobbiamo però gettare le basi per avere anche dei risultati diversi, che possa essere una permanenza per il momento tranquillo nella serie cadetta, ma che possa anche proiettare questa squadra, questa città nelle vette più alte del calcio italiano. Io credo che sia arrivato il momento che si punti più in alto. Non lo so se si può fare, è difficile, lo sappiamo, però è una provincia, non è solo una città, è una provincia che sta intorno a questa squadra, che ama questa squadra, che la sostiene, che la spinge, l'abbiamo vista questa sera e che merita questa provincia di ambire anche alle vette superiori del calcio italiano. E chiudiamo sempre su questo argomento, sulla vittoria e dunque sulla salvezza del Cosenza, perché dopo la salvezza conquistata sul campo, ieri sera al San Vito Marulla, il tecnico del Cosenza, Pierpaolo Bisoli, ha mantenuto la promessa fatta qualche tempo fa, promessa che si riferiva alla permanenza in serie B della sua squadra. Assieme al dirigente rosso-blu Emanuele Delieto, Bisoli stamane ha inforcato la bicicletta per una pedalata fino al santuario di San Francesco di Paola per adempiere ad un voto con il protettore della Calabria, voto appunto professato in caso di salvezza dei lupi. Bene, questa era veramente l'ultima notizia, grazie come al solito per la cortese attenzione, la raccomandazione è quella solita anche in questo caso, non cambiate canale.